Poi un po' di fiori! Ho un testo! No, in solito non mi hanno dato il mitraggio! E' bazzardo io! Guarda una pattuglia! Guarda che fieri! Con il comandante e mezzo per... ...primere che ci muore! Ti puoi, li lanci la canata più! Li lascio, eh? Oh, non c'hanno il cannone! Ce l'hanno l'altra parte! ventuno amore non sono finita ma ci muoiono amore di uno per farli morti questo è morto è morto vabbè allora i cecchini muovo vicino e non ci stanno vendito toh si avanziamo ma non si muoiono tecazzone quella granata preciso Preciso! Smembrato proprio Incola le armi, incola le armi La mitragliatrice possibilmente Cerchiamo di mantenere la posizione Masuka Arrivano, arrivano, arrivano Tutto, tutto Ok Ok Ah, è il momento tutto ora cerchiamo di fare così dopo il canto movendo tutte le munizioni che hanno devo fare sacchi di sabbia posso magari falli sulla strada per me che così si blocca al comboio non so se passa a pensionare e da sinistra a destra bene post ma te c'è un cucinio e dietro al medico quello ma non so se vanno sulla strada vanno sulla crea ma non si mette l'applico nuovo non vedete copi mentre lo faccio perchè sennò muore eeeh eeeh cazzo e che sono sti due capito sono sti due soldati capì 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 fiero questo qua sulla strada ci sono un sacco di persone pieno eeeh c'è una fila c'è una festa mi sto sfogliando ma c'avevo un soldato che ci aveva dato buona metatrice di russa eeeh c'avevi siiii e sparito per mangiare no non mangiare non ce l'abbiamo le mine no eeeh 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 abbastanza ho quanti due sacchi di sabbia dove possono mettere ditemelo voi però c'è le granate al di carro quindi bene e le munizioni eh metto quanti due sacchi di sabbia ok così se dobbiamo ma guarda a sinistra quanti cazzo ce ne stanno guarda la sola porco giuda tana area pure la guardia rossa si vabbè poi a quanti aggiano 118 no eh no ma è matto un soldato vaffanculo ehi non ho il medico non so dove si trova il medico eh non ce l'abbiamo non c'è il medico ce l'abbiamo chiamato qui ma non so chi c'è porco tazzo non lo compito tazzo 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 ma te ce l'hai tu il medico si si sa qua in trincia si si dove sono è morto eh alla linea destra la trincia ma spesa se innesca ecco run tanda 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 no è morto no è morto è morto lascia porco giro ma sono tantissimi sono arrivati dalla parte mia finisco le munizioni noi dobbiamo chiedere altri soldati perché così non ce la facciamo cazzo mi ho colpito il convoglio sta arrivando adesso ci sono due un po' oh porco giuda ma fanno i rush oh ma che si andava fanno i 360 ho rotto il veicolo sulla destra sì ma la macchina se riesci non la distrugge ma prendiamo una divisione brandeburgo devo fuggire un po' vai 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 si si ritorna dietro a me mi è rimasto un soldato via 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 si mangia tutto il mio cuore io ho visto che ci si chiama grazie a che a questo è il tuo che ho ma che è la me perché non io ma un'anno dopo sbattare vabbè avvicinato ad avvicinare il calonopolo facciamo sosta la macchina sarebbe buona si la fai salta tu a te c'è cerco di non farlo la salta che cazzo ci vuoi fare ce lo prendiamo per le munizioni ah perchè cambiamo dei fortini posso mangiare una canata di uomo come fa più che la macchina è di merda ha ucciso i piloti grande ma è stata la guardia rossa che rompe le palle quella se ci riusciamo a pia le armi è nice cazzo e io cazzo la macchina ci faccio il giro da dietro fa la jumbo di fumo oggi si vado a far giro da dietro la macchina ci sono i soldati dietro eh lo so la manovra rischiosa però è da fare no granata è morta scappa guarda che culo mamma mia a un ultimo secondo proprio quello tutto sembrava perduto non c'è non ce l'ho fatto adesso non c'è una canata no 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 e scena uno dietro l'albero se me lo rimini faccio avanti ai soldati miei no senza copertura boh questo qua è da ho ucciso un ufficiale me sa o voi non lo so boh non so forse no tu tu l'hai ucciso no ma che è andata ok stanno a ammazzare il fucileire che spara la mitragliatrice però mi c'è morto un soldato ok ha ammazzato il fucileire e la mitragliatrice però mi c'è morto un soldato che palle che al meglio il tuo no no dico meglio vabbè prenditi il panzerfaust almeno la macchina è andata è ancora buona quindi se la riesci a prendere ma la vede difficile eh perchè è solo un soldato il mio non è che e poi c'è un cannone e poi c'è un cannone ce la fai ma a te? no oh si che culo che culo che ti ha mangiato la no no ingazzato nero l'hai sfrattato bellissimo quello che è sceso è molto e minuscino amore che revenues dice amore neanche logica Europe il capitolo come il caso sembrato velito năm s i n altrimenti se non è buono, dai, boh, poi fate rumore ah no, ancora non è molto, vabbè, vabbè vabbè, ormai gli rendi timbi guarda, sta andando a massacrare quella macchina, cazzo, ci potete servire a noi, i bastardi perché cazzo non si parla? i russi, andano a sparare, gli alleati loro vigili vabbè, se tu non vedi su, si puoi riparare, no, si puoi riparare no, si puoi riparare, stai buono, lo so, non si che si scappa eh, vattano a toglia eh, la penso fucile da merda si è messo in ginocchia a pregà non manco la piada ma ci è venuto indietro che prosodato guardalo, guardalo, ma la presa guardalo, guardalo come corre, porco giuda c'ha il peperoncino un culo grande, headshot si, ma non cammina, mi sa cammina, cammina, no, non cammina riparala, ti copriamo possibilmente non da quel lato, riparala ecco, bravo vai, ripara, sto avuto in mezzo ai proiettili arriverà uno poco il cammio non esplode, però no, tipo eh, infatti ci servirebbe pure l'altro eh, ma potrei provare vai con quello senza munizioni, ma no, vado a partire vado io? ah, ok a me ci sono arrivate le munizioni d'accesso c'è un mitragliere dietro al camion eh, ce ne stanno due dietro al camion vai che l'hai quasi ammazzato grande spero che si muove, ma mmm, lo vedo difficile comunque no, c'ha il motore rotto cazzo distruggione eh, distruggione no, a sto punto per la ripararla per la data avanti oh, è andato dietro qua andiamo a mano cazzo lo so riparò e io c'ho il Panzerfaust lo faccio io fuori al convoio eh, ma io cioè, io sono andato qua che avevi il Panzerfaust e dovevo via le munizioni mi stanno a giovinà no, a me ce l'ho il Panzerfaust però, boh su, va no guai, è vero cazzo vi riparate, vi fa giro fuck guai, il medico con la col mitraglione, non so, va, vedi no, c'ha il fucile anti-carlo ok eh, ma c'è un uno stronzo che mi spara eh, mo d'ammazzano che culo questo d'oro mi lascio nel mezzo ma girala, girala così non spara b, 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 b ri, b, 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 b si, eh, dove fa la mano? non andava, metti la la mezzo agli alberi tu, quanti alberi? quelli dietro, dietro eh, come cazzo si spotta, vf1, come cazzo si spotta n n qua eh, lì che cazzo io la metto aspetta, che cazzo ne so, guida la tu la devo guida io che non ti coglione no 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 che pro driver ecco così ah, donna così con le foglie davanti non riescono a sparare i soldati oh no, guarda che strunz sì, ma come si fa a mettere... ah, ok ma ci vede no, no, non stava la mitagliatrice aspetta eh, ecco, lasciala così rimetti la un po' più dritta, possibilmente perché fermete ferma oh, fermo cazzo ok, fermo, fermo, fermo fermo, fermo che cazzo sto da fa? ma non sta fermo ma perché questo non sta fermo? comunque ti conviene prenderla la mitagliatrice sopra no sì, è bene prenderla ok, fatto vuoi un euro? no, su, cazzo ma non eh, mi sa che me non serve più un cazzo, quindi muovila ah vai, andiamo io non muovo vai a destra però perché a sinistra sta non la posso aspetta perché? perché sei zitto aspetta cazzo, il mio soldato è sceso eh, di chiunque aspetta, fammi partì fermo no no fermo fermo dietro e cazzo lo hai sbagliato no non basta nemmeno ruba niente perchè è tutta rotta ma però vi è bloccato in caso ci stesse un treno ma che c'è stato l'acqua qua dentro non vengono non basta a notare ma chi sta a notare no guarda tu ho disegnato il cannone te lo posso ammazzarmi ma non lo puoi cacciare il coso ci sto cercando, ci sto provando non lo posso ammazzarmi sotto te mamma mia guarda ma si è ammazzato a correre tutta tu vuoi che ci stai anche si ecco non mi conosciuto prima non si deve ricaricare possiamo vedi se possiamo comprare qualcosa possiamo prendere fuggire squadre con fuggire di cano squadre di cano un ufficiale niente un cazzo niente meglio niente io direi di eh andrà tutta a destra siamo un'altra tutta a destra tutta a destra comunque c'è anche un sono arrivando da qua se ne va se ne va se ne va se ne va vabbè sono dove tutta a destra comunque c'è anche un cosa un veicolo blindato c'è un B A64 che non viene usato eh si appunto è quello che ho rotto io ma al fianco ci sta il cannone bisogna prima il cannone posso farlo fuori non è quel problema soldati miei li mando da sotto un cannone bisogna conquistarlo però vedi se riesce a lanciare la granata normale al cannone ok vabbè pure se lo riusciamo a usare perchè tempo mi sembra che erano i cari su sta cazzo di mappa eh appunto è per quello pure eh se mi ricordo bene dovrebbero arrivare eh appunto se lo riesco a prendere è meglio eh perchè c'è un mita ieri capi non è che c'è ma che cazzo fa no vabbè ma non ci riprovo tanto c'ho anche eh vabbè gli dico di lanciare la granata e si va a mettere in mezzo alla trinciata ma che cazzo boh che propone i miei familiari ha non so si ok in soppressione ok fatto perfetto arrivo si ma io non prendo questo qua oh questo qua la lanciara bene invece e vabbè la rilanciano sti figli di una mignota oh che bello qualcuno ha un medico si e ma sta dall'altra parte e vabbè davanti a parte devi cercare di uno ah ma sto coso funziona ancora ok preso vabbè si ma non tocca chiamare un altro medico perchè uno un medico non può fare sempre avanti e indietro eh ma non è così che c'è abbiamo così vinto in teoria in teoria tutti in teoria un giorno armi anti-carlo le abbiamo distrutte tutte noi abbiamo due virgolive razzare a me mi stanno mori tutti i soldati sopra ok arrivo cazzo pesano roccia beh l'ho visto cazzo e riesce a mandare al medico qua sopra cazzo arrivano 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 ma c'è queste rocce da boh cazzo arrivano pure gli altri oh merda ti sono a lanciare granate merda no 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 non vado eeeh il t34 oddio guarda quanti cazzo di soldati sono arrivati ci serve anti-carlo e forza prendete un carro armato una di piccine brand e bunco e un medico e siamo a poco ma non bastano i soldi come no? porco giuda scappa non scappa e per forza cazzo mi sa un soldato oh il soldato ancora non ci muore scappa coglione vado a prendere il cannone ah penso vado a prendere i soldi è morto mi è rimasto un soldato cazzo no è vero c'è un altro un altro della scatola anti-carlo eeeh prendilo quello col bazooka no non è quello col bazooka però allora ce l'hai tu e no prendilo che che cosa non c'è niente si si quello nuovo ah si e che devo fare? eh devi cercare di distruggere il t-34 sta in alto a destra eh benissimo insomma bene ma non benissimo non so se ci riesco io ma non penso io c'ho una granata anti-carlo ci provo eh e so che c'ho un'altra posizione grave ma hai capito c'ho c'ho qua indoscata cazzo sta fa' ma che cazzo sta fa' la manovra da marketing? di marketing oh l'ho cingolato potevo manci ma è un po' difficile aspetta che mi avvicino chi c'è morto? ditemi com'era una situazione da me ditemi com'era una situazione da me perchè sennò è proprio il soldato con la granata anti-carro e vabbè c'era un soldato nascosto in mezzo agli alberi che non si vedeva invisibile cazzo mi faccio niente ormai ho preso è molto 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 la squadra prendete due divisioni una la metto cazzo cazzo ho chiamato una arrivo col carro cazzo guarda tu quel carro di mezzo eh è impossibile eh vabbè uno mi ha fatto ammazzare la divisione è arrivata quella cosa del bordo cazzo cazzo ma c'è tutta la misera io due soldati sono rimasti a qualcuno di voi no io c'ho uno solo a uno a due o uno a te no mi sembra un uomo mi sembra un uomo mi sembra un medico c'è pure il fucilio di carro si ma io c'ho solo un uomo c'ho il merco chiamo un altro medio ma mi sembra una divisione non posso e chiama una divisione chiamone un'altra vale la pena eh ne vale la pena si ci sono più soldati no perchè un soldato come è volato quello c'è un k98k un panzer eh appunto chiama un'altra divisione dove c'è l'altro eh quella la sovramolata riprende io il buchino ah eh sta amarello solo tutti i miei a me e io 2 no io giusto io giusto cadone qua ho potuto utilizzare contro il t-34 però è un po' contamino eh dovrebbe essercene un altro più avanti come si è rotto con cui siamo stabbandi eh sì ok vai io andando riparo il cannone il cannone è mio questo qua che stava da me no c'è no al panzer farsi ci faccio qualcosa al t-34 se lo pigli si se lo pigli lo dovresti distrugge con colpo lo stanno riparato abbiamo sbrigato ah no ci provo ci provo ci provo ci dovresti farcela intanto non ci sta più nessuno sono solo questi i marini qua se rimani tu con il carri armato a screen io avanzo no ho già fatto un garzo dai ho ucciso due carristi ah boh meglio quello che niente niente finiti colpi e ora ci provo io ho fatto un po' le granate di carro per quanto passano fa stanno siamo dovuti dove ho bestremmiato il problema dove voglio sta vai vai biaf ho la granata di carro ha da cazzo sparato ha spavuto ha girato aah mato fa guarda che escono tutti ma scoppia ma fa cazzo ma che fai oh guarda vabbè andrò vabbè andrò il buro senti c'è proprio con un altro Panzerfaust viero col fucile di carro no merda no lezzo rovesce il fucile ah no è morto il medico guardate la precisione del Panzerfaust ma che cazzo ma avvicinati no fa tutto lui ma tu prima non muoverà la canna ma la muove gastardo dai ci hai messo col carro del cazzo e l'ultima posizione e mi è morto un soldato non è già morto ma qui c'è ancora il Panzerfaust bene addio siiii l'ho distrutto bastardo carica alla carica ma ci vogliono tutti perché questi sono camberati là dentro ma io c'ho il Panzerfaust quindi io lo butto in pace a morte granate a voluta granate a voluta ok ok oh che sicurezza invece che colore ancora io buongiorno penso che sia una buona vittoria guarda il soldato da mezzo benissimo guarda il soldato che è vero il video finie qua in google abbiamo pensato proprio 62 soldati zero veicoli zero veicoli eh grazie carica dove sono i figli può fare perché non era nostro l'abbiamo catturato quindi non ho no penso per quello io sono la patria e io faccio dire yeah for their father lead nemico non si sa con cosa ha ucciso il medico del togaris un c'è chi un c'è chi un c'è chi un c'è chi un nemico e mi faccio dire il chido ma va da che ho incontrò uno tu di tutto il soldato ah grazie